e ho il corpo ancora bloccato dai dolori. Non credo che riuscirei ad arrampicarmi sulle sartie come una scimmia, non ancora. Non potresti mettere una buona parola per me presso il capitano e farmi diventare tuo assistente? Lo stupore di Scudemore era inequivocabile. Tu, mio assistente, ma sai di che parli? Si sta così stretti là sotto che dovrai camminare a quattro zampe per andare a prendere secchi di merda, asciugare il vomito e distribuire il cibo. Sono cose da mozzo!